Grande Fratello, chi uscirà dalla casa stasera? Non ci crederai mai! Il Grande Fratello, il reality show che da anni tiene incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo, è giunto alla sua edizione del 2023 con sorprese e colpi di scena che non mancano di suscitare dibattiti e curiosità. La casa più spiata d'Italia si prepara a vivere una serata di grandi emozioni, con l'attesa per l'ingresso di nuovi concorrenti e l'ansia per i nomi dei nominati. La puntata del 6 novembre promette di essere ricca di novità. Nuovi volti sono pronti a varcare la soglia della casa, portando con sé nuove storie e senza dubbio nuovi intrighi. Il conduttore Alfonso Signorini, con la sua consueta verve, ha già anticipato che potrebbero essere proprio ghili spettatori a diventare protagonisti, invitando chiunque a inviare la propria candidatura. Le speculazioni sui possibili nuovi inquilini sono innumerevoli e si sprecano sul web. Tra i nomi che circolano con insistenza troviamo Rosanna Fratello e Jane Alexander, ma anche Perla Vatiero e Greta Rossetti, due personalità che, se confermate, potrebbero portare una ventata di dinamismo all'interno del gioco. Ma non è solo l'arrivo dei nuovi a tenere banco. I riflettori sono puntati anche sui concorrenti a rischio eliminazione. Tra questi, Alex Schwazzer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Angelica Baraldi, si giocano la permanenza nella casa, con il pubblico che, attraverso i sondaggi, sembra aver già espresso le proprie preferenze. Il caso di Mughini, in particolare, ha sollevato discussioni. Dopo essere finito in nomination, il giornalista e scrittore è stato al centro di un piccolo scandalo che ha portato molti utenti del web a chiedere la sua squalifica. Tuttavia, dopo essere stato redarguito, è stato salvato, dimostrando ancora una volta come il Grande Fratello sia un microcosmo dove ogni azione e parola possono avere conseguenze inaspettate. La diretta del Grande Fratello 2023 è un appuntamento imperdibile per GII appassionati del genere che possono seguire le vicende dei concorrenti non solo in televisione ma anche in streaming, con repliche e finestre live che offrono un'esperienza a 360 gradi del reality. In attesa di scoprire chi entrerà e chi dovrà abbandonare il gioco, una cosa è certa, il Grande Fratello non smette mai di sorprendere, confermandosi come uno degli show più amati e seguiti del panorama televisivo italiano. A presto. A presto. Grazie a tutti.